Salve, ben ritrovati a tutti. Siamo arrivati alla conclusione, almeno per quanto riguarda i workshop tecnici, della nostra carrellata sui contenuti delle prossime giornate nazionali di saldatura. Seguendo l'ordine cronologico degli eventi, siamo arrivati al workshop intitolato diagnostica e prove non distruttive che sarà diretto come tradizione ormai da diversi anni dall'ingegnere Francesco Peri, amministratore delegato di IS Service. Questo workshop avrà orari leggermente diversi rispetto al workshop parallelo dedicato alla fabbricazione mediante saldatura, solamente per il fatto che preverà 7 interventi anziché 6, quindi abbiamo dovuto di conseguenza rimodulare le tempistiche. Presso la sala Scirocco, quindi, le presentazioni inizieranno alle ore 13.50, in particolare, con l'intervento curato da Michele Cevenini, regiomatista di Donna e Filippo Baragotto di Saipem, l'ingegnere Cevenini, come molti sanno, lavora viceversa all'interno di NDT italiana, in materia di qualificazione di procedura di controllo con liquidi penetranti a temperatura maggiore di 50 gradi, in accordo a normativa EN-ISO. Un contributo, ovviamente, di carattere specialistico, che fonde l'esperienza da parte di un'importante azienda di linea italiana, come è la NDT italiana, e di un grandissimo fabbricante, quale Saipem, in un contesto di particolare interesse, come avrete molto modo di scoprire durante la presentazione. Proseguiamo rapidamente con il contributo successivo, in materia di controllo ultrasonoro di assili ferroviari, curato, diciamo così, a quattro mani, dal collega Francesco Bresciani e Luciano Ciranni di S-Service e dal dottor Glauco Copatelli di Lucchini RS. In particolare, gli autori ci parleranno delle tecniche di simulazione mediante software dedicati per la messa a punto delle procedure di controllo. Sappiamo che le tecniche di simulazione stanno trovando progressivamente un'importanza sempre crescente anche nell'ambito del controllo indistruttivo, quando poi ciò si riferisce al contesto ferroviario, direi che l'interesse non può mancare, vista la criticità del settore. Proseguiamo successivamente con un contributo curato dall'Università di Trieste e dal gruppo Fincantieri, anzi da Fincantieri S.P.A., stabilimento di Monfalcone in particolare, mediante le quali Samuella Formica e Cristina Berri, citando alcuni, ma non tutti gli autori, ci descriveranno in particolare l'applicazione di sistemi di radiografia computerizzata per il controllo di giunti saldati, sintetizzando di fatto l'esperienza maturata ormai in diversi anni nell'ambito dello storico stabilimento Fincantieri di Monfalcone. A seguire, i colleghi di IS Progress, Pasquale Migniello e Giovanni Clacagno, ci descriveranno le esperienze acquisite recentemente nella caratterizzazione di fenomeni di diffrazione nella radiografia industriale di saldature o fusioni in lega di nickel. È un argomento dubbiamente di dettaglio, di carattere fortemente specialistico, ma le cui risultanze, anche per esperienza personale diretta, potranno essere molto utili a chi si trovi coinvolto in questo tipo di esame, dato che la normativa tecnica e la letteratura non è particolarmente ricca nello specifico. A seguire, il signor Ibba di Oil & Gas, quadrivato dal collega Simone Rusca di IS Progress, torneranno a parlare di controllo radiografico computerizzato per a componenti in superlega, lega di nickel di conseguenza, rivolte al settore delle turbine a gas per applicazioni mechanical drive e per power generation. Un argomento anche questo di carattere specialistico che affronta il tema della radiografia computerizzata, ma in un contesto completamente differente da quello curato poco prima da Formica e Berli nel contesto quindi della fabbricazione di grandi strutture navali. Il penultimo intervento, chiaramente dopo la pausa caffè di metà pomeriggio, sarà curato in viceversa da degli oppelegati da Paolo Stanchi per il conto di Ansaldo Energia S.p.A., quindi una grande industria genovese, ci riporta al contesto dei controlli ultrasonori cosiddetti avanzati, phase and array in particolare, e nello specifico di componenti a geometria complessa e scarsa accessibilità, ancoraggi di pale, turbine e vapore in particolare. Infine, avremo modo di ospitare specialisti del Centro di Sviluppo Materiali di Castello Romano vicino a Roma, che ci parleranno di un proprio modello per la predizione di durezze e microstruttura di acciaio a carboglio manganese e a grano fine, denominato CSM Weld. Inutile anche in questo caso sottolineare la rilevanza che questi modelli previsionali stanno acquisendo anche in fase di design, nel senso ampio del termine, dei giunti saldati prima ancora di arrivare alla loro realizzazione. Mi sarà un nostro piacere accogliere questi specialisti del CSM che nell'ambito specifico vanta una notevole tradizione. Vi aspettiamo quindi numerosi anche questo uoro, cioè come vedete si segnala per la varetta la ricchezza dei contenuti. Grazie a tutti.